Un progetto ambizioso che si fa largo anche tra le problematiche legate al coronavirus e così ConfCommercio Marche Nord ha regolarmente presentato nell'ufficio turismo del comune di Fano la guida itinerario della bellezza 2020 nella provincia di Pesaro Urbino. Giungono a quota 12 comuni della provincia nord delle Marche le adesioni al progetto di promozione, comunicazione e valorizzazione turistica ideato con una bella intuizione proprio da ConfCommercio. La nuova guida, 150 pagine arricchite da suggestive fotografie e realizzata anche in inglese, è solo uno, seppur importante, degli strumenti messi in campo da ConfCommercio per far conoscere e valorizzare il territorio e le sue straordinarie peculiarità in Italia e all'estero. Con l'ingresso di Fano l'itinerario della bellezza è chiaro, accresce incredibilità e offerta, presentandosi ad una platea internazionale che non potrà restare indifferente a tanta qualità e appunto bellezza. Sì, noi avevamo lavorato per avere nel nostro progetto il comune di Fano perché la città e la sua presenza è molto importante nel nostro progetto. Intanto perché comprende la città un'offerta turistica completa, dall'offerta balneare che è l'offerta più importante in termini di presenze turistiche, ma che ha aspetti dal punto di vista culturale, storico, archeologico che possono consentire al turismo di fare un passo in avanti notevole con la destra giornalizzazione, cioè puntare ad un turismo tutto l'anno e non solamente al turismo balneare. Oggi con l'ingresso di Fano siamo a 12 comuni che hanno affidato alla ConfCommercio l'incarico di essere valorizzati e promossi a livello nazionale e internazionale. E l'inserimento di Fano è particolarmente importante perché Fano è anche il terminale della Vallata del Metauro, può essere il comune capofila di tutta la Vallata e guarda caso tutti i comuni della Vallata del Metauro sono all'interno del progetto dell'itinerario della bellezza. E tra questi mi piace ricordare la presenza di Terre Roveresche, altro comune new entry del 2020, perché contiene un gioiello preziosissimo, stupendo, poco noto anche ai marchigiani, che è la grotta ipogea di Piagge, questa scoperta di pochi anni fa dell'architetto Polverari che ci ha fatto conoscere una realtà straordinaria, sotterranea della nostra provincia. Quindi Fano, la sua presenza è importantissima e ci consente anche di sviluppare altri progetti che realizzeremo entro l'anno, che sono la nuova edizione dell'itinerario archeologico a Pestum nel mese di ottobre, alla Borsa Mondiale del Turismo Archeologico, il nuovo progetto con l'inserimento del comune di Fano. Abbiamo anche studiato poi delle iniziative specifiche per la città, che sono un educational con le agenzie di viaggio che dovremo fare a fine marzo. Con base a Fano verranno 25 agenzie di viaggio che scopriranno la città e scopriranno l'itinerario della bellezza. Purtroppo abbiamo dovuto annullare alcuni eventi che avevamo programmato, una serata di promozione a Mantua, la partecipazione alla Fiera di Berlino, che peraltro è stata annullata il giorno prima della partenza. Ma ovviamente recupereremo in corso d'anno tante iniziative, puntando molto sul mercato italiano, perché questa vicenda purtroppo ci ha fatto modificare un po' i nostri progetti, pensando che per recuperare quanto abbiamo perso in questa primavera e dobbiamo puntare molto sul mercato italiano. La presentazione della guida itinerario della bellezza si inserisce all'interno delle tre missioni principali della ConfCommercio, comunicazione e presenza iniziative. Valorizzare i comuni non solo dal punto di vista culturale, ma anche economico per le aziende locali, specie durante periodi di crisi come quello che stiamo vivendo in queste settimane, è lo scopo per cui ConfCommercio si impegna. Sentiamo a questo proposito la presidente della sede fanese dell'Associazione, Barbara Marcolini. L'entrata di Fano è importantissima, proprio per l'economia cittadina, appunto che è la linfa vitale della nostra città. Quindi questo sarà un volano importante itinerario della Bernessa che ci rende appunto particolarmente orgogliosi di essere riusciti a portare Fano dentro questo circuito. E appunto potremmo così far conoscere il nostro patrimonio, patrimonio storico e patrimonio turistico che è comunque un'esperienza a 360 gradi perché comunque va dal mare alla Romanità, veramente alla moretta fanese che può portare sul territorio una ricaduta importante. E proprio per tutto quello che si è susseguito in questo momento punteremo sicuramente a portare turismo italiano che possa venire nel nostro territorio, nella nostra città, che io definisco come una pietra preziosa incastonata nel nostro territorio fatto di arte, cultura e no gastronomia che possa veramente dare un'esperienza sensoriale di profumi, di colori che faccia riscoprire veramente il nostro territorio, territorio italiano e soprattutto appunto della nostra vallata cercando di far conoscere tutti i comuni che fanno parte di itinerari della bellezza per avere questa ricaduta così importante in questo momento così difficile veramente per l'economia, per tutte le attività e per tutte le imprese. La cosa che ci tengo a sottolineare in questo momento particolare è proprio questo, non avere paura, non essere superficiali ma dobbiamo continuare veramente a fare la nostra vita, a girare per le strade, per la città chiaramente con tutta la sicurezza che ci vuole ma non dobbiamo far morire le imprese, non dobbiamo far morire la nostra economia che è quella che veramente ci può salvare. Come la bellezza, l'economia può salvare veramente tutto il nostro territorio. Al tavolo anche Luciano Cecchini, presidente di alberghi consorziati, il vice sindaco di Cagli, Benilde Marini, e l'assessore al turismo del comune di Fano, Etienne Lucarelli. Abbiamo aderito perché ci sorprende molto questa dinamicità di confcommercio che in tutto il territorio sta promuovendo e in tutto il mondo sta promuovendo il territorio in modo così importante. Abbiamo bisogno di promuoverci in modo univoco. Ormai la promozione turistica di una sola città ha un valore ma lascia un po' il tempo che trova perché i turisti di tutto il mondo cercano un po' delle zone di rispetto, delle zone da vivere, delle esperienze e conoscere l'intero nostro territorio permette di vivere le varie esperienze di cui il nostro territorio è ricco. Quindi la città di Fano ovviamente come capofila naturale di questa vallata del Metauro, come arrivo al mare, con tutte le sue bellezze storico, artistiche, no gastronomiche, con la tradizione marinara, con tutti gli eventi che ci sono è veramente un punto importante. Ma è importante che anche noi ci leghiamo con quelle che sono le bellezze di una città come Urbino, patrimonio UNESCO, di una città come Pesaro, ma anche di tutto un territorio con una serie di borghi, con i suoi percorsi naturalistici, con la sua arte, con la sua cultura. Quindi tutto questo è veramente un'attrazione fortissima nel mercato turistico. Sicuramente noi come istituzione abbiamo l'obiettivo di ritrovarci per capire quale è anche l'immagine giusta da divulgare di questo territorio, ma in tutto questo contesto avere soggetti come Confcommercio che possono fare tra l'altro promo commercializzazione, perché in sé hanno una rappresentanza di tutti gli hotel, dei tour operator della zona, e quindi che possono vendere direttamente nel mercato questo tipo di prodotto è ovviamente fondamentale. Il direttore Varotti ha annunciato inoltre che altri progetti andranno a caratterizzare anche la parte culinaria, itinerario dei sapori e del gusto, il turismo religioso, itinerario dei luoghi della fede e dello spirito, e storico, itinerario delle rocche e dei castelli. Nell'occasione, proprio per ribadire il ruolo proattivo dell'associazione, Varotti ha presentato le prossime iniziative. A Fano a fine marzo, un educational aperto alle agenzie di viaggio. Il 18 marzo, presentazione al MIT di Mosca dell'itinerario della bellezza. Il 25 marzo, a Urbino, presentazione del libro su Raffaello. Il 5 aprile a Pesaro, premio antiracket al procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. Grazie a tutti!